Tutto pronto per la trentesima giornata di Serie D. Sono cinque le giornate che mancano alla fine del campionato e le cilentane saranno impegnate in scontri decisivi. In particolare la polisportiva Santa Maria che si appresta a far visita a Langri per un derby dal sapore tutto campano. Un match tra due squadre che risiedono nei piani bassi della classifica. I giallorossi, fanalino di coda del girone H, si giocano le ultime speranze di restare in Serie D mentre Langri è a meno due dalla salvezza diretta. Noi abbiamo ancora il sogno di poter riuscire in quella che apparentemente sembra un'impresa impossibile. Ma noi abbiamo ancora la voglia, la forza e la passione per poter ottenere questo risultato. Noi ci crediamo e siamo consapevoli che sarà difficile però ci proveremo con tutte le nostre forze fino alla fine di questo campionato, fino all'ultimissimo secondo. Sono nove invece i punti di distacco che la Gelbison ha accumulato sulla zona salvezza. Una posizione che fa tirare un sospiro di sollievo alla formazione rosso-blu che sul campo del Rotonda non dovrà comunque abbassare la guardia e portare a casa una buona prestazione e soprattutto un buon risultato. Noi ci aspettiamo una partita spicolosa, una partita giocata su un campo abbastanza piccolo, un campo veloce che permette di giocare un certo tipo di calcio, aggressivo. Noi siamo preparati per questo, sappiamo che dovremo fare un certo tipo di partita con grande attenzione e con grande compattezza.